Percepivano da decenni la pensione di invalidità, ma avevano una vita sociale attiva e guidavano l'auto con cui infrangevano pure il codice della strada. Tre falsi ciechi assoluti sono stati scoperti e denunciati dalla Guardia di Finanza di Bagheria in provincia di Palermo. I tre sospettati sono stati pedinati e filmati. Uno di loro, un cinquantenne di Santa Flavia, nonostante risultasse non vedente assoluto da 40 anni, oltre ad avere un profilo Facebook con numerose foto che mostrano una vita del tutto normale, risultava intestatario di un'auto. L'uomo è stato filmato durante le frequenti uscite di casa, sempre da solo, mentre passeggiava senza problemi, parlando al cellulare e prestando attenzione al traffico cittadino. In altre occasioni è stato ripreso mentre spazzava il cortile di casa o si recava dal barbiere, ovviamente in totale autonomia. Per di più, in occasione di un controllo sull'emissione degli scontrini all'uscita da un negozio, il presunto cieco ha firmato senza problemi il verbale dei finanzieri. Gli altri due truffatori sono due anziani fratelli, un uomo e una donna di Misilmeri. Anche a loro da 25 anni era stata riconosciuta la cecità assoluta. L'uomo è stato ripreso al bar della piazzetta, dove si recava ogni giorno per la partitella a carte con gli amici o nei frequenti spostamenti verso il tabaccaio o il market. La sorella invece è stata filmata mentre andava in chiesa o all'uscita dal negozio di alimentari, mentre portava le borse della spesa e schivava un passeggino sulla strada. I tre falsi ciechi sono stati individuati nel corso dell'indagine fake dine delle Fiamme Gialle, hanno lavorato incrociando minuziosamente le informazioni contenute nelle diverse banche dati. La truffa complessivamente ha danneggiato lo Stato per oltre 520 mila euro. Ai tre falsi ciechi sono stati sequestrati preventivamente i beni, un'auto, cinque terreni, quattro depositi bancari e due conti correnti.